Buone notizie, l'Italia comincia a riaprire un po' tutte le attività grazie a quelli che si sono vaccinati, altrimenti saremmo ancora in lockdown. Nel consueto aggiornamento del venerdì il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca esprime la sua soddisfazione per la ripresa dell'economia e fa il punto sulla campagna vaccinale. Devo darvi un dato importante che riguarda la regione Campania, per me è davvero molto significativo e tale da inorgoglierci. Credo che noi questa settimana raggiungiamo l'80% di vaccinati con la doppia dose nella fascia sopra i 12 anni, l'80% con doppia dose. Su tutta la popolazione, quindi anche i nostri residenti sotto i 12 anni, abbiamo oltre il 70% di vaccinati con doppia dose. Ovviamente questo è il dato medio. I vaccinati con doppia dose nella fascia 12-19 anni sono sul 62%, che è un risultato anche questo interessante. Fino al 92% di vaccinati con doppia dose nella fascia 75-85-90 anni. Dunque, dato medio, 80% di popolazione immunizzata nella fascia sopra i 12 anni. I dati degli immunizzati sono soddisfacenti, ma ugualmente bisogna essere prudenti e responsabili, sottolinea De Luca. Siamo partiti con la somministrazione della terza dose per fragili anziani e personale sanitario, nonché con la campagna anti-influenzale, prosegue il governatore. Un risultato importante. Ovviamente siamo chiamati ad avere prudenza, comunque sappiamo che vi sono anche fra di noi cittadini ancora non vaccinati, per varie ragioni, non perdiamo tempo. Dobbiamo essere prudenti, responsabili. Se così sarà, davvero noi nel giro di poche settimane avremo il rilancio di tutte le attività economiche del nostro territorio. Devo dire che siamo partiti con la somministrazione della terza dose, persone anziane, persone fragili, personale sanitario. E siamo la prima regione d'Italia ad essere partita con la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Siamo partiti il 1 ottobre. E anche questo motivo di grande soddisfazione. Per partire il 1 ottobre con il vaccino anti-influenzale bisogna lavorare a marzo, ad aprile, acquistare i vaccini, prenotarsi, organizzare le consegne. Dunque, grande, piena soddisfazione. Rassicurante infine la situazione anche sul fronte scuola. Dalla riapertura non si è registrata alcuna particolare emergenza. Non registriamo ad oggi, ed è passato un mese, particolari emergenze nell'ambito della scuola. Auguriamoci che continui così per i prossimi mesi.